Riprende il funzionamento del centro di depurazione di San Martino, zona Salvaiezzi di Chietiscalo, a darle notizie al presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, nella sede del consorzio Bonifica Centro, con il governatore e il commissario regionale del consorzio, Daniela Valenza, non solo il centro depurazione di San Martino. Abbiamo conseguito in questi mesi traguardi importanti con il consorzio di Bonifica Centro, dice Marsiglio. che aveva una serie di problemi strutturali molto importanti, quindi riavviare l'attività, rinforzare l'attività del centro di depurazione, che ha anche una forte valenza ambientale, riaprire dopo 25 anni di chiacchiere, di pazzesche vicende burocratiche e amministrative, la centrale idroelettrica in Val di Foro, più anche gli annunci che abbiamo dato in questi mesi, in queste ultime settimane, che ormai si stanno concretizzando in affidamenti di appalti, contratti e lavori, nella prossima apertura dei cantieri, per l'invaso della Dica di Penne, per la strada Dendalo e la strada cosiddetta della Pace. Sono risultati importanti. Credo che questo territorio e soprattutto i consorziati attendessero da tempo un impegno serio da parte della regione, ha aggiunto Marsiglio. I commissari che la regione ha nel tempo fatto individuato e che si sono succeduti, dall'Avvocato Battaglia all'Avvocato Valenza, hanno risolto temi che erano davvero complessi, a volte ultradecennali. Ritengo che qualcuno non ci sperasse più, nemmeno negli obiettivi raggiunti, prosegue il Presidente. Questo appunto penso che sia davvero un gran bel risultato e dimostra l'impegno, l'efficienza della nostra amministrazione e soprattutto l'impegno che la regione sta mettendo nel comparto agricolo e nel settore del ciclo idrico per riportare a livelli di qualità la resa di questo servizio.